ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare caster polaris farmaceutici srl ultimo aggiornamento 25 ottobre 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso avvertenze ingredienti immagini prodotto a cosa serve caster è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere del microcircolo è commercializzato in italia dall'azienda polaris farmaceutici srl informazioni commerciali titolare polaris farmaceutici srl concessionario polaris farmaceutici srl categoria di appartenenza integratori per il benessere del microcircolo forma farmaceutica soluzione confezioni caster sciroppo 200 ml indicazioni integratori alimentari in sciroppo a base di flavonoidi arancia rossa rock vitamina c e vitamina k1 indicato nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fa bisogno di tali nutrienti bioflavonoidi da agrumi presenti in tutti gli agrumi esercitano effetti benefici sui capelli e sul flusso sanguigno sostengono i tessuti connettivi punto associati alla vitamina c sono in grado di sostenere l'attività antiossidante di quest'ultima contro i radicali liberi responsabili di numerosi danni tessutali vitamina c acido ascorbico ha una spiccata azione antiossidante ed antinfiammatoria è un antiossidante coinvolto in particolare nelle pareti dei vasi sanguigni inoltre agisce sulla stimolazione del collagene che funge da cemento per aumentare il sostegno dei vasi rock red orange complex le arance rosse hanno una maggiore presenza di sostanze antiossidanti rispetto a quelle bionde vitamina k1 viene anche detta vitamina anti emorragica la principale funzione della vitamina k è legata alla coagulazione del sangue riveste un ruolo importante per le reazioni dei fattori della coagulazione punto questo sciroppo può essere utile nel mantenimento della fisiologica circolazione venosa migliorando l'elasticità delle pareti vasali con l'azione antiossidante dei suoi componenti può risultare utile per contrastare l'effetto dannoso dei radicali liberi modalità d'uso si consiglia l'assunzione di 10 ml al giorno dopo i pasti agitare bene prima dell'uso avvertenze non superare la dose giornaliera raccomandata tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata si sconsigli l'uso in gravidanza e durante l'allattamento per i bambini si raccomanda di sentire il parere del medico conservazione conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore luci umidità ingredienti acqua fruttosio bioflavonoidi da grumi citrus spp aroma limone acido ascorbico vitamina c conservanti potassio assorbato sodio benzoato rock red orange complex estratto standardizzato ottenuto dal succo e dalla buccia di tre varietà di arance rosse moro terocco sanguinello addensante carbossimetil cellulosa sale sodico vitamina k1 gomma arrabica e 414 sciroppo di glucosio fosfato tricalcico e 341 estratto supportato su malto destrine fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato